Non ci lasci nessuno qui? Certo, la mamma. E voi, Don Geronimo, che mi avete fatto da padre? Voi due? E non c'è nessun altro che ti rincresca di lasciare? Pomaso? Povero Maso. Povero Maso. Finalmente, signor Curato. È quasi un mese che noi giriamo il mondo in cerca di voi. In cerca di me? Voi siete francesi, signor Curato? No, signor Generale. Ma come no? Non siete nato ad Ajaccio? Sì, sono nato ad Ajaccio per combinazione, ma la famiglia Bonaparte è italiana, fiorentina. Fin dal 1200 stava a Firenze, poi andò in Corsica per attriti con i medici, ma la famiglia è italiana, toscana. Voi siete nato in Corsica.